Le moderne sfide verso la transizione ecologica impongono un cambio di paradigma e di vision al gestore del servizio idrico integrato e questo specialmente nell'ambito della gestione ordinaria degli asset ma in primis nella progettazione di interventi di upgrading e revamping. Per cui tutti gli interventi devono traguardare sicuramente la neutralità energetica, il recupero e l'utilizzo dei rifiuti e naturalmente al contempo migliorare l'insediamento di queste infrastrutture trasmigrandole verso il concetto di fabbrica vela. Non ripeto gli obiettivi che in questo contesto Gori dovrà mantenere nel programma energia per Rissarno, sottolineo 300 milioni, sembra un rilancio ma perché ci stiamo portando già avanti con interventi di progettazione quindi i 270 milioni che avete visto prima sono finanziati ma sono in corso appunto ulteriori progettazioni. Il contesto è quello di arrivare entro il 2025 all'eliminazione di tutti gli scarichi, oggi abbiamo eliminato oltre 30 scarichi, entro una ventina di giorni sono in completamento ulteriori interventi che porteranno all'eliminazione di 35 scarichi, complessivamente i 113 milioni. I distretti depurativi già sono stati detti dai relatori che mi hanno preceduto, vorrei sottolineare però e farvi evidenziare il diagramma barre sul servizio depurativo allo stato di trasferimento delle opere che evidenzia un service water divide consistente specialmente nei subcomprensori 2, 3 e verso appunto la foce del fiume Sarno con copertura del servizio fognare depurativo che in alcuni casi arrivava a malapena praticamente al 50% e qui è stata focalizzata maggiormente l'attenzione degli interventi strutturali che poi vedremo. Per raggiungere e attuare un intervento così sfidante in soli 5 anni e mettere a terra appunto circa 300 milioni di opere non si poteva che partire da una sinergia istituzionale con cabina di regia unica in capo a Regione Campania, ente idrico campano con soggetto attuatore degli interventi individuato in Gori e S.P.A. e si sono cercati per bruciare le tappe di mettere anche a fuoco gli errori del passato, in particolar modo si sono subito individuati gli stakeholder dagli enti comunali fine appunto alle associazioni cercando di coinvolgerli già nella fase di pianificazione degli interventi per evitare che appunto gli venissero calati dall'alto spostando tempi e discresi tutti in fase realizzativa, è stato portato avanti un grande progetto di trasparenza comunicativa quindi con il portale dell'energia del Sarno dove tutti possono controllare lo stato di attuazione degli interventi e i KPI da raggiungere sulla barra appunto dei tempi e naturalmente un altro lavoro qui più da parte nostra nel migliorare ed evitare per esempio interruzioni di cantiere contenziosi e quant'altro è stato quello di ingaggiare da subito le imprese anche già in fase di progettazione quindi si è spinto molto sui criteri migliorativi sfruttando le peculiarità delle imprese in termini di sviluppo e di capacità di mettere appunto di proporre modalità esecutive molto più efficaci. In termini interni qui il cambio di vision e di organizzativo fortissimo da parte appunto del soggetto gestore innanzitutto è stata creata una struttura di missione che è energia per il Sarno sono stati applicati concetti di program manager che hanno portato alla formazione di sei gruppi PM che seguissero i progetti dalla loro fase di pianificazione alla progettazione all'attuazione al collaudo lungo tutto lo sviluppo della sede. Per rendere ancora più pregnante l'impegno l'azienda ci ha dato anche una sede in corrispondenza della foce del fiume Sarno affinché tutte le mattine quando andiamo a lavoro vediamo la mission che abbiamo cioè risanare appunto il fiume e l'attività fondamentale e qui il vantaggio di essere gestori è stato di rimente è stato quello di fare innanzitutto un censimento un rilievo molto accurato di infrastrutture che non conoscevamo perché in parte anzi per la maggior parte realizzata dal commissarietto di governo non esercite e questa attività è stata fatta in sinergia con i colleghi operativi questo anche al fine di sfruttare tutte le informazioni sistematicizzare tutte le criticità che i colleghi operativi avevano già mappato sulle infrastrutture in gestione e questa garantita ha bruciato praticamente molto le tappe per capire le criticità fino a definire i piani di azione che sostanzialmente si sono sviluppati su due grandi tematiche collettori e reti fognari in piani di depurazione fin qua è semplice però è importante capire lo stato il contesto in cui ci muoviamo opere parliamo dei collettori opere parzialmente realizzate se erano tutte realizzate probabilmente non in esercizio quindi molte di queste potevano essere recuperate altre potevano dovevano essere completate poi vedremo ingegneristicamente che soluzione abbiamo adottato per gli impianti di depurazione il trasferimento come già anticipato l'ingegnere amore è avvenuto con con parti in particolar modo sulla linea fang completamente dismessi di gestione aerobica quasi mai funzionante e impianti di essiccamento non in esercizio venendo ai collettori e passando un più a una panoramica delle tecniche ingegneristiche che abbiamo messo in campo è evidente che laddove era necessario completare le opere non si poteva che utilizzare tecniche tradizionali di scavo a cielo aperto qui molti dicono il problema è la siccità per i cantieri e invece la presenza di falda è un problema veramente serio abbiamo livelli di falda molto elevati in alcuni casi in inverno anche superiore al piano campagna questo è l'esempio del cantiere del collettore di gragnano dove abbiamo applicato un'ampia vasta azione di jet grouting per creare il tappo di fondo e le paratie laterali successivamente fare uno scavo tradizionale per realizzare il collettore un altro caso di tecnica tradizionale esecutiva è stata quella spesso utilizzate per piccoli tratti di collettore con l'utilizzo di palancola e well point i collettori che abbiamo realizzato hanno previsto per la maggior parte l'utilizzo di prfv con pozzetti già precostituiti in stabilimento al fine di ottimizzare e garantire un'aggiunzione perfetta contro l'ingresso delle acque parassite che è un altro problema che abbiamo nei collettori esistenti siamo arrivati anche a costruire gallerie per prolungare collettori questo intervento molto bello è sotto il centro storico di sorrento è una galleria di oltre 440 metri e ha consentito praticamente in fase di ultimazione la dismissione dell'impianto di depurazione comunale di marina grande per convogliare tutti i reflui al nuovo impianto comprensoriale di punta gradelli affiancato alle tecnologie tradizionali per il recupero delle opere esistenti abbiamo praticamente utilizzato a piene mani tecnologie no dig da relining laddove il collettore avesse due esigenze fondamentali quelle di un recupero strutturale e di un'impermeabilizzazione a sinistra potete vedere i livelli dei collettori solo con acque di falda non erano appunto in esercizio a destra il risultato finale fino a intervenire anche con interventi puntuali laddove i collettori erano in buone condizioni ma in corrispondenza dei giunti proprio per evitare ridurre l'ingresso di acque parassite si sono appunto posati in opere i giunti Amex o si è passata la sigillatura dei giunti con malte specifiche tecnologie no dig sui micro tunneling abbiamo fatto micro tunneling laddove le condizioni aerografiche del territorio lo richiedevano perché un'altra cosa importante noi lavoriamo in un tessuto molto densamente urbanizzato e per cui l'impatto di queste tecnologie che è molto chiare è veramente limitato ci ha permesso di superare appunto ostacoli abbiamo dovuto affrontare come in questo caso anche il recupero della macchina che si è incagliata oltre 100 metri dalla dallo sbocco originario di progetto a 30 metri di profondità e questa è stata anche una grande sfida ingegneristica l'abbiamo recuperato con uno spingitubo quindi una rivincita di una vecchia tecnica che ha portato praticamente a recuperare la macchina liberandola dall'incaio e ultimo caso praticamente anche l'utilizzo delle perforazioni orizzontali controllate per il superamento di alve nelle posi delle premente se queste applicazioni hanno sostanzialmente garantito un bassissimo impatto in termini sociali e ambientali sulle modalità di posa di tipo classico si è spinto moltissimo sul recupero dei materiali quindi piani di terre di rocce da scavo che hanno consentito il riutilizzo di oltre 10 mila metri cubi di materiali e monitoraggi molto spinti per controllare l'impatto dei cantieri quindi anche sulle tecnologie tradizionali si è andato praticamente a monitorare molto diciamo l'impatto del cantieri impianti di depurazione vediamo qui cosa abbiamo messo in campo come diceva prima l'ingegnere amore il trasferimento si è concluso nel 2023 e qui il contesto praticamente degli interventi è di due livelli un primo livello di revamping perché diciamo gli impianti avevano bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria per rifunzionalizzare gli impianti la consistenza la consistenza originaria degli impianti specialmente sulle linee fan anche qui l'approccio è stato sinergico con chi si occupava di gestione per sistematizzare praticamente le criticità e passare alla definizione degli interventi di revamping che sono stati fatti praticamente su tutti gli impianti in gestione ho portato qui due schede solamente degli interventi più grandi che sono attualmente in corso questo è l'intervento che è in corso di esecuzione che vedrà la fine entro fino anno di nocera superiore dove attiveremo sostanzialmente l'essiccatore e praticamente abbiamo potenziato la sedimentazione primaria per fronteggiare i sovraccarichi di sedimenti un altro intervento molto importante anche qui a mercato sanseverino che è l'obiettivo di minimizzare gli impatti odorigeni e portare l'impianto al dissequestro ragione per cui praticamente oggi è l'oggetto di sequestro passo velocemente alla conclusione e veniamo agli interventi invece di upgrading nell'ottica di transizione ecologica e neutralità energetica indotti anche dall'utilizzo dei fondi del PNRR che impongono naturalmente il rispetto degli obiettivi previsti nel DNSH già in fase di cantiere e il relativo monitoraggio in corso di esecuzione. La finalità di questa progettazione deve assolutamente mirare alla riduzione dei rifiuti, alla incentivazione di produzione di energia da fonti rindomabili, al riutilizzo di quello che oggi è considerato un rifiuto, fanghi e sapi in particolar modo, e naturalmente al miglioramento dell'inserimento degli impianti di depurazione nei contesti ambientali esistenti. Qui la Coria ha partecipato e ha candidato i progetti al bando mite oggi Mase classificandosi al primo posto a livello nazionale per il progetto di nocera superiore che quindi si va a sovrapporre al revamping in corso e la sovrapposizione di questi due progetti porterà ai risultati che vedete elencati sotto. Non vi leggo per velocità ma sottolineerei il valore complessivo della riduzione della CO2 equivalente immessa su base anno a pari a circa 3.000 tonnellate. Ulteriore intervento strategico è molto innovativo perché crea una piattaforma di trattamenti fanghi anche per gli impianti della penisola è il potenziamento dell'impianto di depurazione di scafati. Qui la creazione di un parco fotovoltaico molto ampio ci porterà alla creazione di 1,3 gigawatt all'anno e naturalmente una riduzione drastica dei fanghi a oltre il 60%. Qui l'abbattimento della CO2 in maniera accumulata è di oltre 10.000 tonnellate. Concludo mettendo la foto dell'acqua alla sorgente del sarno. La transizione ecologica l'avremo al di là del bagno dell'amministratore delegato quando porteremo questa qualità con questo stato ambientale alla foce del fiume sarno. Allora avremo compiuto l'obiettivo.